Sono Filippo Acquaviva, direttore esecutivo di Artes 4.0. Siamo qui per questa quattro giorni della BIMU a Fiera Milano Ro, per una delle più importanti manifestazioni nel campo della robotica, dell'automazione, dell'additive manufacturing e di tutte le tecnologie abilitanti. In particolare siamo presenti qui nell'area espositiva della Robot Earth, dove siamo vicini a grandissimi player nel campo della robotica, tra cui ABB, Yaskawa, Fanuc. Ci troviamo qui all'interno di Robot Earth con il nostro stand di Artes 4.0, dove vogliamo rappresentare e promuovere tutto il nostro partenariato pubblico e privato. Come ben sapete, tra i nostri soci abbiamo le eccellenze dal punto di vista universitario, ma anche oltre 90 imprese, tra start-up, piccole, medie e grandi imprese. Ovviamente siamo anche qui a diffondere e a promuovere tutti i servizi e le attività che offriamo alle piccole e medie imprese, dall'orientamento verso tematiche 4.0, alla formazione e ovviamente al supporto per quanto riguarda l'attuazione dei progetti innovativi presentati dalle piccole e medie imprese.